Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Vicenza ha da pochi giorni un nuovo sindaco, Giacomo Possamai, al quale l'ex primo cittadino Francesco Rucco ha lasciato l'amministrazione della città. Città che, come ha evidenziato ConfCommercio Vicenza nel suo documento distribuito ai candidati in campagna elettorale, necessita di uno sviluppo armonioso e pianificato e dare soluzione ad alcune criticità, come ci dice il presidente di ConfCommercio Vicenza, Nicola Piccolo. Una campagna elettorale molto intensa, alla fine abbiamo visto una certa polarizzazione, quindi una vittoria di Giacomo Possamai, a cui naturalmente faccio le mie più sincere congratulazioni, con un piccolo scarto. Penso che in questo caso ci vorrà la collaborazione di tutti, vincitori e vinti, perché ripeto, la città dal punto di vista del voto è molto vicina, è suddivisa e quindi compito anche del nuovo sindaco di riunirla. Ringrazio il sindaco usciente e il sindaco Rucco per la preziosa collaborazione di questi cinque anni, lavorati in maniera positiva con la nostra organizzazione. Per quanto riguarda il nuovo sindaco entrante, Giacomo Possamai, auguro che possa andare a regime nel più breve tempo possibile, quello che c'è da fare su Vicenza ci sono parecchie cose aperte dal punto di vista urbanistico, in primis quello che sarà il problema della TAV e del BRT, dico problema che in realtà non è così se organizzato e definito in maniera molto chiara. Quindi un augurio che prende in mano in maniera molto veloce tanti dossier, tra cui questo. Noi ricordiamo poi come organizzazione l'importanza dei parcheggi, sia per il centro storico, sia per i quartieri, oltre a questo altri temi a noi molto importanti e molto caldi, naturalmente oltre allo sviluppo commerciale, il turismo, la sicurezza e su queste cose occorre lavorare in maniera molto veloce tutti assieme. Con Commercio Vicenza ha sempre avuto questo spirito collaborativo, uno spirito collaborativo importante per chi ha amore, lo sviluppo della città, direi non solo dal punto di vista commerciale, ma a livello globale. Con Commercio quindi sarà vicino a Giacomo Possamai, in questo suo nuovo cammino, pronti a vedere assieme tutte quelle urgenze che devono essere prese in mano con una certa velocità, perché Vicenza non può aspettare. Altre sei imprese vicentine del terziario hanno ricevuto nei giorni scorsi il marchio Imprendi Green, che attesta il loro percorso di azienda che abbraccia la sostenibilità. Imprendi Green è il marchio rilasciato da Commercio Nazionale, che ha attivato una checklist di best practices, di cura dell'ambiente con la prestigiosa Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, secondo i più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento in termini di riduzione del climate change e di contributo al raggiungimento dei diversi obiettivi ambientali dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ricordiamo che il questionario può essere compilato in forma gratuita dal sito imprendigreen.confcommercio.it. Ora conosciamo queste imprese virtuose che hanno ricevuto l'attestato. Nella comunicazione oggi come oggi il focus è tutto green, quindi green power, green economy, green society, tutto green, anche perché le nuove leve nascono già con questa idea, fa parte della nuova generazione, fa parte del sistema di comunicazione sociale e di massa, fatto anche direttamente quello che noi identifichiamo come publicity e non come advertising e comunque entrambe sono direzionate verso questo tipo di sistema di comunicazione, di sensibilizzazione della popolazione non solo ma anche nelle scuole direttamente dagli allievi. Le pratiche buone sono, beh innanzitutto abbiamo puntato sull'illuminazione LED in tutti i punti vendita che abbiamo riscontrato un ottimo risultato. Poi una cosa che teniamo molto è anche il discorso del packaging. Tutto ciò che costruiamo all'internamento di confezioni l'abbiamo rivoltato nel cartone contro il polistirolo o il celefa. Noi diciamo abbiamo una mission, la possibilità e lo facciamo regolarmente del ritiro e lo smaltimento corretto di tutto quello che sono gli imballaggi anche quando si va a casa del cliente, non solo all'interno del negozio e, cosa estremamente importante, ritiriamo anche tutti i prodotti esausti che poi conferiamo regolarmente ai centri di competenza. Come le è sembrato il questionario? Estremamente interessante anche perché al di là del mettermi in condizione di valutare quello che è il mio comportamento e quello quindi che può essere il mio giusto comportamento nei confronti della gestione del rifiuto, del riciclo, del riutilizzo, grazie al questionario si arrivano anche a comprendere che ci sono percorsi, strategie che magari non hai preso in considerazione o non conoscevi e quindi vengono veramente fornite delle indicazioni utili per migliorare in quello che è il proprio comportamento a difesa dell'ambiente. La diaria SRL si è sempre impegnata nella formazione dei propri dipendenti sia dal punto di vista pratico quindi della vendita sia proprio come scuola di vita quindi in questi 16 punti vendita adesso ci stiamo anche impegnando in un'educazione, in una sensibilizzazione agli sprechi e alla raccolta differenziata, a una gestione proprio all'interno del negozio anche da questo punto di vista. I colleghi come hanno recepito questi suggerimenti? Sono stati coinvolti in maniera molto positiva, erano tutti entusiasti e stanno seguendo, vedo giorno per giorno tutte queste nuove piccole abitudini del quotidiano quindi tutti molto entusiasti. Il questionario è stato utile? Sì è stato utile perché ha puntato l'attenzione su vari aspetti che magari prima potevano essere sfuggiti o non ci si pensava. Prende avvio il progetto Acqua, Vetta, Storia e Gusto, il turismo plurisensoriale di Requaroterme e delle piccole Dolomiti che permetterà agli operatori del turismo dei comuni dell'Unione Montana, Pasubio, Piccole e Dolomiti di beneficiare di interventi di formazione e consulenza totalmente finanziati. Il progetto si inserisce all'interno di un'azione più ampia portata avanti e avviata nell'ultimo biennio grazie all'assegnazione per i territori di Requaroterme dell'Unione Montana, Pasubio, Piccole e Dolomiti di importanti finanziamenti che contribuiranno a riqualificare strutture e servizi con l'obiettivo di rinnovare una meta turistica tra le eccellenze venete. Il progetto sarà illustrato lunedì 12 giugno dalle 15 alle 17 con un webinar a partecipazione libera previa all'iscrizione sul sito ascom.v.it. Il Ministero della Cultura ha approvato l'avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della PNRR. Per la provincia di Vicenza possono beneficiare dell'avviso imprese borghi i comuni di Arsiero, Lusiana Conco, Fozza ed Enego. Le domande possono essere inviate dall'8 giugno e ricordiamo che per le imprese associate è disponibile lo sportello bandi e contributi di ConfCommercio Vicenza sia per fornire maggiori informazioni sia per valutare anche per il tramite della società di consulenza convenzionata la partecipazione al bando. Infine vi ricordiamo che martedì 6 giugno dalle 15 si svolgerà l'incontro online per tutte le imprese associate sul tema privacy e le adempimenti essenziali in 30 minuti. L'obiettivo dell'incontro è quello di rispondere in sintesi e servendosi di esempi concreti alla domanda ma alla fine cosa devo fare per essere in regola con la normativa sulla privacy? Il webinar sarà condotto dal dottor Stefano Zocca dell'Ufficio Legale e Commercio Interno di ConfCommercio Vicenza. Ed ora le proposte di ESEC a formazione. Engagement nei social come creare coinvolgimento una formazione a distanza che si svolge il giovedì 8 15 22 29 giugno e 6 luglio dalle 20 alle 22 30. Il corso insegna a costruire le esperienze sui social media che davvero generano engagement e che andranno a far parte della più ampia strategia di digital marketing aziendale. Sabato 10 17 24 giugno dalle 9 alle 13 corso Yoga Training Rafforzare la coscienza di sé. Il corso è stato pensato in forma di consulenza di gruppo sia nella parte di training fisico sia nella sua fase applicativa ai fini aziendali. Nello specifico andrà ad agire sul recupero dell'energia fisica emotiva e mentale e sulla gestione dello stress, sulle capacità decisionali e di comunicazione. L'Università del Gusto propone il corso per professionisti carne cruda all'estate della macelleria. Lunedì 26 giugno dalle 14 30 alle 18 30. Il corso vuole promuovere il consumo di carne cruda in tutta sicurezza e da spunti su abbinamenti bilanciati ed equilibrati tra la carne e le altre materie prime, oltre a fornire suggerimenti sulla presentazione della carne cruda al banco e in monoporzione. Infine il corso Lievitati tra tecnica e creatività. Martedì 27 giugno dalle 9 30 alle 15 30. Il corso migliora la conoscenza delle materie prime, dei processi di cottura e dei metodi di farcitura per ottenere prodotti lievitati di altissima qualità. Ed ora l'agenda. Martedì alle 12 consiglio dell'Associazione Provinciale Agenti Immobiliari ed Affari e Mediazione. Alle 15 webinar privacy gli addeppimenti essenziali in 30 minuti. Mercoledì alle 20 assemblea della delegazione comunale di Bolzano Vicentino. Giovedì alle 16 e 30 consiglio dell'Associazione Provinciale Macchine, Attrezzi Agricoli e Boschivi. Venerdì alle 16 e 30 incontro della FIM a Vicenza, nuovi strumenti per le stime. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buona settimana. Grazie a tutti.